Pino Quartullo è un'iniziativa dal titolo Piccoli Grandi Film, come nasce questo progetto? Da un cortometraggio che si intitola Io Donna, che ho girato con attori come Margherita Buisi e Giorubini, ma che vede coinvolti anche molti civili da vecchiesi, tra cui Maria Luisa Rubulotta come coreografa, alcuni costumi di Franco Ciambella e le musiche originali sono di Alessandro De Mito e degli Elo Socrate, un musicista che purtroppo ci ha lasciato recentemente e a cui dedichiamo questa rassegna. E con l'Avvocato Cacciaglia e con la Fondazione Carici abbiamo pensato non soltanto di mostrare questo cortometraggio, ma anche fare una retrospettiva, cogliere l'occasione per mostrare i più importanti cortometraggi degli ultimi 30 anni. Ora, torniamo sul documentario invece che lei ha fatto, qualche informazione in più, ad esempio la storia che tratta, perché il titolo Io Donna? Il mio cortometraggio è tratto da un romanzo di Matteo Bonadias, che è un romanziere pugliese, e ha voluto, appunto mi ha chiesto di trarre un cortometraggio da un suo romanzo. E tra i suoi romanzi questo mi è sembrato il più interessante, che è la vita di una donna in 20 minuti non è stata molto semplice. Una giornalista, qua ce ne sono molte oggi, che appunto si rende conto di aver messo sempre al primo posto il lavoro e aver un po' trascurato se stessa. Un'iniziativa che vede nella realizzazione non solo Pino Quartullo, ma anche dei cortometraggi di altissimo livello. Naturalmente la Fondazione Cassa di Risparmi ha dato una grande mano affinché questa manifestazione si potesse realizzare. Pensate di riproporla anche in futuro? Guardi, lo dicevo, io ritengo che questa sia una manifestazione di grossa importanza, come debbo dire tutte le organizzazioni anche nel passato proposte da Pino Quartullo. Non lo dico per piageria, ma ricordiamoci il film per Civita Vecchia, ricordiamoci tante cose che veramente hanno avuto un eco eccezionale. Noi dobbiamo fare in modo che questo sia un evento che rispecchi sempre di più la sua importanza. Quindi sicuramente noi avremmo intenzione di ripeterlo, anche perché su idea del bodiere di Pino è subito sposata chiaramente dalla Fondazione. Avendo il compianto Alessandro Di Mito partecipato alla colonna sonora di alcuni di questi documentari, si è ritenuto di dedicare, chiaramente sentendo la famiglia, di dedicare questo festival e di intitolarlo proprio a lui.